Grazie a tutti. Grazie a tutti. Noi in Cina non possiamo ripetere questi errori, deve essere più di solo la milione di vita e può vivere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo sentito tutte le nostre famiglie e i colleghi, hanno fatto ognuno la sua opinione, ha dato molta pressione a noi. Per esempio, ogni paese per obiettivo di sviluppo dell'economia, anche per le condizioni migliori per i cittadini o per l'educazione della città sull'uomo è stato molto copiato a noi. Grazie a tutti. Speriamo che tutti gli amici, quanto ha il tempo, vieni in Cina a visitare la nostra città. Grazie. Grazie.